Parliamo delle tecnologie collegate all'imaging odontoiatrico, cosa c'è di nuovo e quali sono le prospettive per il futuro? Ciò che è particolarmente interessante in questo momento è lo sviluppo che sta avendo la tecnologia con beam volumetri applicata al campo odontoiatrico. In maniera particolare l'integrazione della tecnologia con beam nell'ambito di sistemi già esistenti che diventano delle vere e proprie piattaforme in grado di realizzare immagini panoramiche tradizionali, teleradiografie oppure immagini combi in volumetri, immagini tridimensionali che quindi forniscono una quantità di informazioni fino a ieri assolutamente impensabile per lo studio odontoiatrico. Quali sono i vantaggi per l'odontoiatra? I vantaggi sono legati alla immediatezza della diagnosi che prima era legata all'invio del paziente presso uno studio di radiologia presso il quale soltanto poteva eseguire un'immagine di tipo TAC. Oggi tutto questo è possibile nel proprio studio dentistico quindi con vantaggi enormi dal punto di vista dei tempi ma soprattutto vantaggi enormi dal punto di vista della quantità di informazioni diagnostiche che il dentista ha a disposizione immediatamente. Grazie